Quanto vorrei che restassi ancora un po' qui con me, devi per forza tornare a New York. Se non lo faccio non potrò sfoggiare i miei cappotti invernali. Scherzi a parte, mi mancano i miei. Lo capisco, l'anno scorso per me è stato difficile restare lontana dalla mia famiglia, ma mi sono divertita molto a New York. Mi piacerebbe mostrarti tanto altro della mia vita qui a Malibu. Già, ma servirebbe una vera magia per farsi chiaccada. Lo sai qual è il mio motto? Non c'è niente di impossibile. Caspita! Questa è bella grande! Nuotiamo! Va tutto bene? Sì. Tu? Sì. È stato così strano. Quel tuono è saltato fuori dal nulla. Ehi, ma che cos'è? Sembra un cucciolo di cavallo. Qualcuno deve averla portata qui in spiaggia e poi l'ha lasciata tutta sola. Stai tranquilla, piccola. Non ti faremo del male. Le stiamo simpatiche. Ehm... Che cos'è stato? Forse era una festa di compleanno. Qui in spiaggia? Non lo so. Comunque, mettiamola nella mia macchina e portiamola alla scuderia. Magari qualcuno la riconosce e sa dirci di chi è. Bell'idea. Vieni, piccola. Ce l'ho fatta. Oh! Quello che vedo con i miei occhietti è qualcosa di tenero e morbidoso. Ma è troppo facile, Stacy. È honey. Tocca a me. Quello che vedo con i miei occhietti è... Ho bisogno di un succo d'arancia. Qualcuno di scontroso. Buongiorno, Skipper! Ciao, Barbie. Come andiamo? Ciao, mamma. Ascolta, abbiamo trovato un cucciolo di cavallo. La stiamo portando alla fattoria. Ragazzi, potreste... Cosa? Non sento niente, tesoro. Ok, ascolta, non fate tardi. Ci vediamo dopo. Cosa faranno durante il loro ultimo giorno insieme? Qualcosa tipo un piccolo salto in trattoria. Si divertiranno. Vado al lavoro. Ciao, tesoro. Ciao, ragazze. Ciao, mamma. Vado via anch'io. Devo registrare il mio ultimo documentario. Le abitudini notturne della creatura più timida al mondo, ovvero l'ottocione. Vero che riuscirete a non fare troppo baccano oggi? Io non sarò un problema perché me ne torno a letto.